Allora ragazzi, io metto immediatamente le mani in avanti perché non ci ho capito niente manco io, nel senso che probabilmente la patch sarà prossima settimana il 18, potrebbe essere anche oggi, doveva essere il 4, insomma non ci sta a capire niente nessuno, però nel corso del video vi spiegherò i motivi per cui i leaker sono convinti che in realtà sarà prossima settimana. Ma potrebbe clamorosamente uscire anche oggi la patch, io ovviamente il video lo sto registrando il 10 sera, ho aspettato proprio l'ultimo momento per registrare questo video ma attualmente non abbiamo notizie certe, ma abbiamo un bel po' di news di cui parlare, quindi a prescindere da come e quando uscirà la patch, quindi se oggi o prossima settimana, oggi abbiamo delle notizie davvero molto importanti di cui parlare. Io nel dubbio vi avviso che se ci dovesse essere la patch, io sarò già in live su Twitch questa mattina, trovate il link in descrizione per venirmi a seguire in streaming, se non ci dovesse essere nessun tipo di aggiornamento andremo comunque in live verso l'ora di pranzo per starci tutto il pomeriggio, perché comunque anche se non ci dovesse essere un aggiornamento, qualche bel contenuto su Fortnite dovrebbe essere aggiunto. Guardate tutto il video per capire di cosa sto parlando. Prima di iniziare con il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande e tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzule è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su support a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande e tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo, grazie davvero di cuore a chi lo farà, è davvero importantissimo. Nel frattempo andiamo a mettere pronto, lasciate un bel mi piace per supportare le GG News, non vedo l'ora che esca questo aggiornamento ragazzi perché si preannunciano delle cose molto interessanti, iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto e vi ripeto ragazzi di andare a lasciare un bel follow anche su Twitch tra dei link in descrizione, così almeno poi quando andremo in live vi arriva la notifica. Detto questo, via con le news. Allora regala, volete sapere una cosa molto divertente? Allora io stavo giocando, stavo facendo la mia GG News, stavo parlando, ho anche vinto, ho fatto una vittoria reale con la corona e tutto quanto. Bene, adesso che ho finito mi sono accorto che non stavo registrando. Cioè io ho appena buttato una vittoria reale dove vi spiegavo tutte le news di oggi perché non ho avviato la registrazione, perché io di solito registro la intro, poi registro la partita, poi registro l'outro e... Mi sono dimenticato di iniziare a registrare quando ho fatto la parte del gameplay. Ottimo! Oh vabbè, ve lo volevo dire perché era una cosa abbastanza divertente. Dai, però dai, almeno abbiamo fatto una vittoria con la corona. Secondo me se stavo a registrare non la facevo. Bene ragazzi, adesso sto registrando, è tutto a posto, ovviamente dato che sto registrando non uscirà neanche una buona partita perché tanto funziona sempre così, quando non registro tiro fuori le migliori partite, quando registro faccio schifo. Comunque per la GG News di oggi ce ne andiamo qui in quest'altra casetta, vi ricordo che non abbiamo ancora deciso il nostro posto di fiducia per questo capitolo 3, Ma comunque, detto questo, partiamo con le notizie. Per me sarà la seconda volta, quindi ripartiamo con le notizie, ma va bene. Allora raga, questa 19.10 che è l'aggiornamento di cui parleremo sostanzialmente in video di oggi, anche se però, come vi stavo dicendo, ci saranno delle news anche per quanto riguarda la giornata di oggi, quindi, anche se per tutto il video andremo a parlare del perché l'aggiornamento uscirà la prossima settimana, Sappiate che già da oggi ci saranno delle grosse novità su Fortnite, vi dico solo che molto probabilmente proprio oggi uscirà per esempio il tornado e forse anche il fulmine, per non parlare anche di qualche nuova arma, ma ribadisco, ora ne andiamo a parlare con calma, un passo alla volta. Allora, innanzitutto, come potete leggere, questa 19.10 è stata certificata su Nintendo Switch, ok, e aggiunta anche ai server di prova e dovrebbe appunto uscire prossima settimana. Ora nel video vi spiegherò perché siamo un po' tutti convinti del fatto che esca prossima settimana e non oggi. Allora, innanzitutto, la fase 5 della neve, qui ovviamente si fa riferimento alle fasi della neve che c'è attualmente sulla mappa, sapete che si sta sciogliendo e ovviamente per semplicità ogni volta che si scioglia la mappa viene suddivisa in fasi, quindi c'è stata la fase 1, fase 2, 3, 4 e 5 che sarà il 16 gennaio alle ore 10 e di conseguenza il 18 ci sarà la fase 6. E se vi ricordate bene, ragazzi, che cosa succede nella fase 6, nella fase 6, ragazzi, ci dovrebbe essere lo scioglimento di quei ghiacciai che attualmente stanno ricoprendo pinnacoli pendenti. Quindi sì, ragazzi, come abbiamo già detto anche in degli scorsi video, il giorno giusto per poter finalmente avere nuovamente pinnacoli su Fortnite è il 18 gennaio. Ma adesso andremo a vedere perché potenzialmente è anche il giorno della patch. Praticamente pinnacoli pendenti attualmente è ancora criptata, quindi per questo non abbiamo ancora avuto la conferma al 100%, cioè diciamo che fino ad ora noi sappiamo che pinnacoli arriverà al 99,99% e dopo vi spiego anche il perché siamo così sicuri che comunque arrivi. Però dato che ancora non è nei file di gioco, è normale pensare che arrivi soltanto con un ipotetico aggiornamento e quindi di conseguenza un'ipotetica patch e di conseguenza dobbiamo aspettare questa 19.10. E dato che pinnacoli arriva effettivamente il 18 gennaio, o oggi esce la patch per preparare appunto il 18 gennaio all'arrivo di pinnacoli, oppure questa patch ci sarà direttamente prossima settimana. Quindi staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere. Io ribadisco comunque, vi terrò aggiornato magari nei commenti, quindi magari aprite poi la sezione commenti che ve lo scrivo, dato che già questa mattina dovremo avere una risposta sulla presenza o meno dell'aggiornamento. E quindi vi aggiorno anche poi sull'orario in cui andrò in live su Twitch, quindi ribadisco, rimanete sintonizzati. Allora, ecco qui Ipex che stira fuori un tweet proprio ieri sera dicendo che questa 19.10 è schedulata al 18. E come lui, ragazzi, anche Sheena e tanti altri leaker più o meno famosi hanno fatto dei tweet e annunciato una cosa del genere. Quindi, ragazzi, diciamo che il tutto può essere abbastanza sicuro. Certo, già il 4 gennaio ci aspettavamo l'aggiornamento, quindi pure quello poteva essere abbastanza sicuro. Però vi ricordo che noi il 4 gennaio ci aspettavamo l'aggiornamento perché poi il 18 ce ne sarebbe dovuto essere un altro. E dato che di solito tra uno e l'altro ci sono due settimane, si pensava appunto al 14, l'11 no e poi appunto il 18. Quindi boh, staremo a vedere. Vai a vedere che proprio l'11 che era il giorno meno contemplato tra tutti è il giorno della peggio, ovvero oggi. Vabbè, ribadisco, vi tengo aggiornati nei commenti. Comunque diamo un rapido sguardo a quelle che sono le zone attualmente innevate e che piano piano perderanno la neve dato che si scioglierà. E possiamo notare ad un certo punto la torre dell'orologio di pinnacoli, ragazzi. Quella, regà, è palesemente una torre dell'orologio sfocata di pinnacoli e denti. Ed è per questo che ormai siamo praticamente sicuri al 99%. Tralasciando tutti gli altri indizi che Epic ci ha lasciato negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Però, regà, mi sembra abbastanza evidente adesso. Speriamo bene, speriamo non sia l'ennesimo troll. Comunque così, giusto per smorzare un attimino gli argomenti, sappiate che Epic a un certo punto stava lavorando a dei possibili clan su Fortnite. Secondo me sarebbero stati fighi, però poi sono stati scartati come idea. Quindi Epic non sta più lavorando a questa idea appunto di mettere dei clan su Fortnite e poter creare dei clan. Ribadisco, secondo me sarebbe stato figo. Ma adesso passiamo alle notizie che interessano al noi di oggi. A oggi ragazzi, perché Sheena è sicura al 100% che già in questa settimana vedremo almeno il tornado. Perché? Perché nelle sfide stagionali di questa settimana c'è una sfida in cui dobbiamo utilizzare per forza il tornado. Come leggete ragazzi c'è scritto percorri 100 metri volando intorno a un tornado. E questa sfida tecnicamente dovrebbe uscire giovedì. Quindi ragazzi in questa settimana, se non proprio oggi, dovrebbero uscire sti famosi tornado. Ora questo qui ci pusha con Spider-Man, no, si sta facendo gli affari suoi. Quindi ragazzi, tecnicamente se stanno aggiungendo i tornado, io penso che possiamo aspettarci anche i fulmini. Non lo so ragazzi, su questo non abbiamo la certezza, ma sui tornado siamo abbastanza sicuri. Sempre Sheena ragazzi ci fa notare che in questa settimana dovrebbe uscire anche una missione che richiede l'utilizzo della flare gun. Che è quella pistola che già c'era anche su Fortnite, che utilizza in questo caso il Jonesi disperso sull'isola. Che tra l'altro a me neanche piaceva molto come arma. Però appunto sempre in questa settimana dovrebbe uscire una missione riguardante quest'arma. E quindi sempre questa settimana deve uscire. Quindi insomma regà, anche se ci stanno facendo aspettare molto per questo aggiornamento, dovrebbero uscire delle cose interessanti anche questa settimana. Come vi stavo dicendo, quindi speriamo bene. Tra l'altro, giusto per buttarvi lì un'altra notizia. Che tra l'altro mi sa che ho già trattato in una GG News vecchia, ma nelle prossime settimane, quindi questo non si sa come quando uscirà. Non abbiamo ipotesi, non abbiamo idea, quindi potrebbe uscire pure oggi, non lo so. Stiamo aspettando una mitraglietta mitica. Ribadisco, di questo se ne sta parlando davvero parecchio. Cypher ha rifatto un video al riguardo proprio in questi giorni. Qui, giusto per farvi vedere che ne riparla anche lui, perché non ho più ritrovato i leak e le notizie che ne riparlavano. Perché regà, veramente se ne sta parlando da un sacco di settimane. Quindi non sono riuscito a recuperare quelle news. Però sì, regà, io ho abbastanza paura perché già la mitraglietta verde, per esempio, è devastante. Figuratevi se la fanno mitica. E ho abbastanza paura, ragazzi. Abbastanza. Tra l'altro, regà, e anche di questo se ne sta parlando già da un po' di tempo, ci dovremmo aspettare degli NPC per quanto riguarda il Daily Bugle. Sapete che comunque nelle città ultimamente Epic ha anche aggiunto un paio di NPC a punto di interesse. Non ovunque, anzi, è abbastanza rara come cosa, però è stato già fatto in passato. Bene, potremmo aspettarcene anche per il Daily Bugle perché stiamo aspettando ben tre NPC al Daily Bugle. Ora, mi sembra strano che ce ne siano addirittura tre, però staremo a vedere. E queste sono solo teorie, però effettivamente potrebbero essere molto accreditate. Ovvero che uno di questi NPC possa essere Mary Jane. Addirittura Mary Jane ce la stiamo aspettando già da qualche settimana. Infatti in una delle prime GG News di questa season vi stavo già parlando di una possibile Mary Jane al Daily Bugle. Ma soprattutto il Green Goblin, ragazzi. Il Green Goblin su Fortnite secondo me sarebbe una figata pazzesca. Bene, molti se lo stanno immaginando, ipotizzando. Sia perché Fortnite stessa ha annunciato un po' di tempo fa che amici e nemici di Peter Parker, quindi Spider-Man, stanno arrivando su Fortnite. Ma anche perché effettivamente fondazione nella schermata principale di questa stagione, la schermata di caricamento di questa stagione, è su questo mezzo volante che è chiaramente un riferimento a quello che utilizza il Green Goblin. Cioè, oddio, adesso non sappiamo se è un riferimento oppure no, però in una schermata di caricamento dove c'è proprio Spider-Man in primo piano, in secondo piano metti fondazione che ha appunto un mezzo del genere. Raga, mi sembra un po' chiamata come cosa. Quindi effettivamente tutto ci fa pensare che possa arrivare effettivamente anche il Green Goblin su Fortnite. Sia come NPC appunto, ma anche come skin. O comunque giusto come skin. Anche perché se lo fanno uscire come NPC, la skin la devono fare per forza, insomma. Ci abbiamo un traiardino qui fuori, probabilmente un traiardino, ragazzi, anche perché non tutto il tempo stiamo beccando solo traiardini. Infatti per fare la vittoria reale prima abbiamo dovuto traiardare anche noi. Appunto. Per quello vi dico, stiamo traiardando anche noi, ragazzi, perché se no qui non si tira più fuori nessuna buona partita. Ultimamente, ragazzi, sto facendo veramente fatica a giocare a Fortnite. Cioè, nel senso, se non traiardo non riesco proprio più a fare neanche una kill. Ed anche per quello ho ripreso in mano un attimino il pad, che sapete, in questi giorni mi stavo divertendo un po' con Maussetta Stiera. Comunque ribadisco, le mitragliette sono troppo forti, quindi ho veramente paura di una mitraglietta mitica. Ho veramente tanta paura. Comunque, tornando a parlare delle armi, sappiate che è stata modificata quest'arma qui, che è un fucile a pompa in realtà abbastanza vecchiotto di Fortnite. È il pompa quello pesante, lo shotgun pesante, che è stato modificato in maniera importante, ovvero è stato tolto quel mirino sopra. E voi direte, boh, vabbè, ma che modifica importante è? Ah, secondo Apex, ragazzi, questa qui non è proprio una modifica da niente. E secondo lui non è neanche una modifica che Epic farebbe tanto alla leggera giusto per la creativa, perché comunque, ragazzi, anche se le armi non sono presenti in battaglia reale, Epic continua a bilanciarle e a modificarle, se ci dovesse essere qualche problema o qualche sbilanciamento, perché poi magari quelle armi si possono utilizzare, per esempio, in creativa. Quindi comunque Epic per forza deve continuare a bilanciare e a modificare queste armi. E secondo Apex questa modifica qui non è stata fatta per la creativa, perché solitamente queste modifiche così visive, vistose, diciamo così, vengono fatte nel momento in cui l'arma viene poi riportata in game. Quindi secondo Apex, Fortnite ha intenzione di riportare questo shotgun. Ora, inutile dirvi che sotto i commenti di questi post, sia di Apex che di altri leaguer che hanno riportato la notizia, ci sono stati una marea di player che stanno chiedendo lo spasso e quindi il pump del nonno. Sinceramente io sono rimasto sorpreso anche di questa scelta, perché è ovvio come Epic abbia voluto stravolgere il parco armi di questa stagione, con questa stagione appunto di Fortnite. Quindi rivedere un'arma vecchia un po' mi fa storcere il naso, però raga, sì, secondo me ci sta. Cioè sono ben contento di rivedere lo shotgun pesante su Fortnite, come sarei ben contento anche di vedere il pump del nonno, per esempio. Quindi io mi accontenterei anche di questo, ragazzi. Io vi dico la verità, mi accontenterei anche di questo shotgun pesante, anche perché a me piaceva particolarmente, eh. Vi posso dire con grande tranquillità che a me questo shotgun piaceva molto. Quindi non mi dispiacerebbe. E fatemi sapere la vostra nei commenti, ma fatemi sapere la vostra anche per tutto il resto. Perché le news di oggi finiscono qui, secondo me sono state molte e anche molto intense. Fatemi sapere la vostra sia da un punto di vista degli aggiornamenti, quindi effettivamente cosa ci dobbiamo aspettare. Vi ricordo che vi tengo aggiornati nei commenti, poi vi aspetto anche su Twitch, trovate il link in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questi eventi meteorologici, che finalmente probabilmente vedranno la luce, per poi finire ovviamente nel dirmi anche cosa ne pensate di questi shotgun che effettivamente Epic, anzi di questo shotgun che effettivamente Epic forse vuole rimettere nella battaglia reale. Detto questo, se riuscissi a vincere pure sta partita non sarebbe male, perché sarebbe un'altra vittoria con la corona. Ma tanto, dato che adesso sto registrando, sicuramente non riuscirò a vincere. Ma infatti mi sembrava strano che stava andando tutto bene nella partita di prima, ragazzi. Vi giuro, mi sembrava molto strano. Dico, oddio, sto di nuovo vincendo in un video. Dato che negli ultimi video, ragazzi, ho fatto veramente pena tra Random Skin Challenge e anche GG News in generale, invece. Ok. Ah, addirittura? È caduto? No, non è caduto. Però ti hanno laserato, amico mio. Come si è rinchiuso? Ah, bene. E raga, a sto punto me ne scappo, perché seppure quello lì gli stava sparando e l'ha laserato a tal punto che quello si è chiuso con i muri corazzati, penso che quello lì ora ci volesse pushare. Invece no, mi sa di no. Vabbè, io nel dubbio mi sono dato alla fuga. Ok, raga, questo... Ma vabbè, questo mi ha visto... Ma come? Ma non è possibile che mi ha visto entrare, raga? Volevo camperare perché siamo rimasti in tre. Volevo farmi gli affari miei perché dico, boh, faccio pushare loro e io faccio lo sciagallo. E invece no. Ma come fa a trovarmi sempre subito? Ma incredibile! Ma poi come ha fatto a trovarmi lì in quel cespuglio? È arrivato che già buildava, tra l'altro, raga. Eh vabbè, no, vabbè, raga, quanto danno mi ha fatto esattamente? Mi ha devastato. Vabbè, comunque abbiamo beccato proprio il classico traiardino che si sta facendo tutta la lobby, c'ha già 9 kill. Ma questo proprio in quel cespuglio deve venire a rompere le scatole. Io dico, siamo rimasti in tre, faccio pushare loro due, ma più che altro perché volevo farmi la vittoria con la corona. Ci sto tenendo particolarmente a fare le vittorie con la corona, ragazzi. Cioè, abbiamo superato le 40, ma siamo a 43. Quindi ogni volta che ho la corona, ragazzi, l'imperativo è vincere. Cioè, voglio vincere a tutti i costi e quindi volevo camperare, ma questo era troppo più forte di noi. Ma poi quanto danno mi ha fatto col pump? No, me l'ha scammata, ero a 43! Sì, di solito le scamma, raga, dovete poi ricaricare il gioco, vabbè. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo però, il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato, il negozio oggetti di Fortnite fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale, lasciando un bel mi piace, per me è tutto, ci riaggiorniamo nei commenti Ci ritroviamo nei commenti e in live. Ciao ragazzi!